amici di motore online oggi abbiamo per voi un'anteprima davvero speciale perché alle nostre spalle la vedete c'è la nuova mercedes cla coupé e questa tra l'altro è una versione ancora più speciale perché una versione di preproduzione quindi ancora precedente a quelle che in questi giorni hanno appena iniziato ad uscire dalla catena di montaggio allora a questo punto noi vorremmo cominciare a parlare di quest'auto che ci risulta arriverà a maggio nei concessionari italiani quali sono le sue caratteristiche principali beh questa è una cla quindi si tratta di una berlina coupé quindi una macchina che le berline sono le macchine delle persone serie quindi degli avvocati dei commercialisti beh questa in realtà per noi è la macchina una delle macchine più giovani di mercedes quindi siamo attorno a 40 anni fra 30 e 40 anni con persone che lavorano in azienda che lavorano nel marketing in ambiti creativi una macchina sportiva che è molto divertente da guidare non è il classico SUV che si va bene ci vado in montagna va di moto ma poi quando lo vuoi andarci forte voglio divertirmi con la macchina questa va da dio è piatta bassa ti risponde molto molto reattiva e quindi ti riconcilia con la voglia di guidare un'automobile sportiva tra l'altro ha anche una dotazione di motori molto interessante sì perché adesso partiamo con dei motori che vanno da 160 fino a 250 cavalli a benzina ed un motore diesel che è il 180 di da 119 cavalli ma arriveranno anche entro la fine dell'anni anche tutti gli altri classici motori della gamma di mercedes inoltre è molto particolare forse i nostri amici se ne saranno accorti questo allestimento che avete preparato per questa alternativa perché la CLA Coupé è in mezzo alla C e alla CLS sì perché abbiamo voluto far vedere come in realtà questa macchina si inserisce nell'offerta diciamo delle berline delle berline Coupé intanto abbiamo messo l'iperuraneo quindi la CLS quindi il top la macchina che ha inventato questo segmento delle berline Coupé è una macchina piuttosto costosa una nicchia una macchina molto desiderata ma tra 90 e 100 mila euro questa macchina ancora i prezzi non sono stati definiti ma costerà tra 33 34 mila euro come prezzo d'attacco quindi questo significa una macchina già molto ben dotata attorno ai 45 mila euro messa a confronto con la classica berlina di mercedes la classe C che è la macchina tipica di chi con la macchina ci lavora del libero professionista quindi di chi ha unità media di 55 anni quindi sono due modi diversi di interpretare la berlina una quella classica solida di chi con la macchina ci lavora e l'altra invece di chi vuole se stufato delle classiche dei classici SUV vuole qualche cosa di diverso che proietti la propria personalità in un modo diverso e più sportivo rispetto a quello che è un classico SUV o crossover. certamente allora devo dire noi non vediamo l'ora di provarla e vi diamo già appuntamento per metà aprile perché avremo l'occasione di fare il nostro primo test drive a bordo di questa CLA Coupé fino ad allora grazie mille a mercedes e rimanete sulle pagine di motore online per scoprire tutti i dettagli sulla nuova mercedes CLA Coupé Grazie mille a tutti